Siamo negli studi di Aska News con il professor Pietro Gentile che si è giudicato il primo posto per la chirurgia plastica nella classifica Expertscape di una società di ranking americana che individua i maggiori esperti internazionali in determinati settori. Ecco, professore, innanzitutto che tipo di classifica è? Innanzitutto comporta un riconoscimento a quella che è un'attività scientifica frutto di una serie di esperienze maturate all'interno della mia università che è l'Università di Tor Vergata che è l'università che mi ha messo a disposizione anche gli strumenti per poter raggiungere questo tipo di risultato perché le cose, come sappiamo, non si riescono a fare sempre da sole. Certo. Fatta questa premessa e per rispondere alla sua domanda le dico che Expertscape è un'agenzia di ranking americana come lei aveva introdotto correttamente che valuta a seconda delle keyword che in essa vengono inserite il miglior esperto nell'ambito sanitario attraverso l'utilizzo di algoritmi scientifici che fanno sì che venga fuori il miglior ricercatore, il miglior professore o anche semplicemente il miglior specialista che però abbia avuto, tra virgolette, la possibilità di pubblicare sia quantitativamente che qualitativamente delle pubblicazioni scientifiche di alto impact factor. Quindi è una classifica fatta soprattutto sulla ricerca? È una classifica fatta sulla ricerca scientifica, sulle pubblicazioni scientifiche prodotte negli ultimi dieci anni. Ecco, lei è professore appunto presso ricercatore e docente di chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Università di Tor Vergata a Roma ma è anche al primo posto nella graduatoria italiana per la chirurgia plastica e al sesto posto nella graduatoria europea. Quindi non soltanto ricerca scientifica ma anche attività sul campo. Questa classifica è il frutto delle ricerche scientifiche che sono a loro volta il risultato dell'attività sul campo. Com'è cambiata per la sua esperienza la chirurgia plastica in questi decenni? Grazie ovviamente anche alle nuove tecnologie, all'evoluzione scientifica. Immagino ci siano stati dei grossi cambiamenti. Certamente siamo passati dalla chirurgia sostitutiva che era la chirurgia iniziata negli anni 60 con i trapianti che ad oggi ha ancora la sua importanza e il suo peso per arrivare alla chirurgia rigenerativa che si basa sull'utilizzo delle proprie cellule e dei propri tessuti. Un esempio nell'ambito della chirurgia plastica rigenerativa, ricordando sempre che la chirurgia rigenerativa è qualcosa che può essere applicato anche alle altre discipline, quindi agli altri ambiti sanitari, si basa prevalentemente nel mio ambito nella chirurgia plastica, ad esempio, sull'utilizzo del proprio tessuto adiposo e di proprie cellule e di fattori di crescita che possono a loro volta, sempre nell'ambito di manipolazioni minime consentite, essere utilizzate per diversi scopi. Un esempio è rappresentato dall'utilizzo del tessuto adiposo attraverso procedure di centrifugazione e filtrazione minima per scopi ricostruttivi, cioè per la ricostruzione mammaria post-oncologica o per finalità estetiche, sostituendosi alle protesi per l'aumento del volume del seno o per il ringiovanimento del volto. Altri esempi sono dati, ad esempio, dall'utilizzo dei propri fattori di crescita ricavati dal sangue che possono essere utilizzati laddove appunto ci sia un'idoneità accertata del paziente e uno screening di criteri di inclusione nella ricrescita dei capelli insieme ad altre metodiche sempre basate su biotecnologie rappresentate dall'utilizzo di proprie cellule follicolari, cioè estratte dal cuoio capelluto. Quindi, come vediamo, l'impiego della chirurgia plastica rigenerativa varia dall'utilizzo del tessuto adiposo, quindi da maschi e femmine, alla ricrescita dei capelli. Che interessa soprattutto i maschi, ma non necessariamente. Ecco, questo da un punto di vista, diciamo, della ricerca scientifica e dell'applicazione, da un punto di vista del paziente invece, c'è un approccio più tranquillo, immagino, perché se prima la chirurgia estetica era probabilmente anche molto invasiva, adesso invece, grazie alle nuove tecnologie, alle nuove tecniche, all'evoluzione fatta, ci sarà, immagino, un approccio più tranquillo da parte del paziente. Lei è riuscito, riesce a vedere questa evoluzione? Se io dovessi sottopormi personalmente a un intervento chirurgico, beh, sarei sicuramente più contento di sapere che quell'intervento a cui io debbo o voglio sottopormi è un intervento molto meno invasivo rispetto allo stesso intervento che avrei dovuto subire magari 15 anni prima. Quindi, per rispondere alla sua domanda, certo che sì, che il paziente percepisce una maggiore serenità nel proprio inquarsi e nell'avvicinarsi agli interventi di chirurgia rigenerativa nell'ambito della chirurgia plastica. Basti pensare, ad esempio, che per l'aumento del volume del seno, come tutti sanno, era previsto l'impiego delle perotesi malmari. Per quanto recentemente sono state oggetto di una serie di valutazioni, ma ad oggi comunque rappresentano uno dei mezzi protesici, appunto una delle metodiche utilizzate per l'aumento del volume del seno, l'alternativa invece è rappresentata dall'utilizzo del tessuto adiposo che consente di avere lo stesso aumento del volume del seno, ma in maniera molto più naturale e senza l'utilizzo di mezzi esterni, cioè di protesi. Sfruttare le risorse che noi stessi abbiamo. Questa è la chirurgia rigenerativa, che rappresenta non il futuro, ma rappresenta il presente.